L'oppositore russo Alexei Navalny è stato condannato a 20 giorni di carcere per aver convocato a una manifestazione di protesta non autorizzata a San Pietroburgo. La legge russa sulle manifestazioni pubbliche è adottata dopo i massicci raduni antigovernativi nel 2011, prevede sino a 30 giorni di prigione per ripetute violazioni. Mi arrestano per una dimostrazione assolutamente legale, deve essere un regalo per il compleanno di Putin, è tutto quello che posso dire. Il blogger era stato arrestato dalla polizia su un mandato del tribunale, rilasciato nella stessa giornata. La condanna comporta come conseguenza la sospensione della sua campagna elettorale per le presidenziali, in programma il prossimo marzo.